Anzi è in incertezza per la sorte di due cooperanti italiane ravite una settimana fa da un gruppo armato e di cui la Farnesina ieri ha dato conferma. Il sequestro si è verificato nella zona di Aleppo in Siria. Le due erano inempegnate in un programma di volontariato dal titolo Horry Heidi. Un parente di una delle due ragazze ha invitato i giornalisti a mantenere viva l'attenzione sul caso.